Cari ascoltatori siamo qui a Radio Pugginio Neir oggi per parlarvi di un annuncio di due ore fa che ha mandato un brivido nel mondo della televisione per tutti coloro che sono amanti dei talk show, non so se esistono gli amanti dei talk show, comunque sia tutti coloro che hanno stima o sono fan di Fabio Fazio. Il noto conduttore Fazio ha confermato la sua intenzione di lasciare il mondo televisivo ma dobbiamo aspettarci il suo addio tra quattro anni però come ogni addio è triste anche se viene annunciato soltanto ora un colpo di scena che ha già suscitato grande curiosità e riflessioni. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera Fazio ha dichiarato tra quattro anni scendo, d'altronde se c'è una regola che ho imparato da Carlo Freccero è che un anno di televisione equivale a sette anni di un uomo. Quindi mi aspettano facendo i conti altri 28 anni di lavoro in tv. Lo confermo, scendo. Una decisione motivata dal desiderio di dedicarsi alla sua vita privata, al riposo e a ciò che ama di più. Il conduttore ha anche rivelato che smettendo la conduzione di che tempo che fa avrà finalmente il tempo di dedicarsi alle sue passioni come la lettura. Fazio ha dichiarato se smettessi che tempo che fa potrei finalmente dedicarmi alle cose che amo di più. Leggerei per esempio moltissimo, sono un divoratore di libri, ne acquisto uno ogni tre giorni, anzi alcuni li prendo doppi. Ma l'annuncio di Fazio non si ferma qui. Ha anche toccato il tema di Sanremo con una nota ironica sulla coincidenza tra il vincitore del festival e il suo programma. Ha ribadito la sua speranza che la RAI possa tornare a svolgere una funzione inclusiva e non divisiva, esprimendo la sua preoccupazione riguardo al nuovo regolamento che sembra influenzare le dinamiche delle trasmissioni televisive. Il nuovo regolamento del festival di Sanremo per cui a lui e ad altri che non appartengono alla RAI non è possibile ospitare nelle proprie trasmissioni i cantanti o il vincitore del festival che hanno una specie di esclusiva, almeno se non so capito bene, durante il periodo del festival. In attesa del suo ritorno in onda con Che Tempo che fa, il 14 gennaio su 9 di Discovery, a Fazio ha concluso l'intervista con la speranza di un ritorno a rapporti normali con la RAI. Continuate a seguirci su Radio Puginioner per tutte le ultime notizie su Fabio Fazio e le sue avventure televisive. La televisione italiana si appresta a perdere una delle sue figure più iconiche, se è vero quello che ha dichiarato Fazio, se lo diceva sul serio oppure così era detto in modo provocatorio. Non lo sappiamo, lo scopriremo e ve lo racconteremo nei prossimi giorni o nei prossimi mesi. Ma noi saremo sempre qui per raccontarvi ogni sviluppo di questa storia. Allora, così come stiamo parlando di tantissimi argomenti, abbiamo iniziato il nuovo anno con davvero tante notizie, tra cui la notizia di Gigi D'Agostino al Festival di Sanremo 2024. Andate sul canale, iscrivetevi al mio canale YouTube Marco Pugini, potete ascoltare tutte le altre puntate ed esplorare tutti gli altri argomenti. Anche ascoltare la mia musica, vi invito a farlo e a restare sintonizzati per riascoltarci nella prossima puntata di Radio Pugini On Air.